Ciao a tutti e benvenuti al video di prime impressioni su The First Berserker Kazan, che è un Souls-like, quindi un GDR d'azione, in uscita nel 2025 per PS5, Xbox Series X, Series S e PC. In questo video vi parlerò innanzitutto, prima vi parlo del gioco, vi spiego un po' che tipo di gioco è e come si comporta, cosa ha di differente dai Souls, perché ha delle differenze molto carine secondo me, e poi andremo a vedere i Pro, i Neutri e poi i Contro, ok? Prima di iniziare vi ricordo che vado in live praticamente tutti i giorni su Twitch, trovate il link in descrizione per seguirmi là. Vi ricordo anche che potete acquistare giochi a prezzi scontati su Instant Gaming, che è una piattaforma che vi consente di acquistare giochi a prezzi convenienti per più o meno tutte le piattaforme, anche se le disponibilità di solito sono più elevate per PC, e quindi, insomma, per poterlo fare dovete andare in descrizione, c'è il mio link, attraverso il mio link comunque supportate anche il canale. Vi ricordo anche che potete partecipare alla giveaway di Instant Gaming gratuitamente, voi partecipate e una volta ogni mese viene estratto randomicamente un utente che vince un gioco a sua scelta fra tutto l'elenco di giochi disponibili sulla piattaforma Instant Gaming. Ora, cos'è The Berserker Kazen? The Berserker Kazen è un Souls-like, quindi come vi dicevo un GDR d'azione, con però una componente action ancora più marcata, nonostante ci sia comunque la componente GDR tutta. Si combatte come in un Souls, ma con appunto degli elementi action che rendono, se il giocatore vuole, perché è tutto opzionale, l'abilità con il pad più importante rispetto ad un Souls classico. Abbiamo attacco leggero, attacco pesante, parata, perry, schivata, ma anche schivata perfetta, un secondo tipo di perry, un contrattacco e altre tecniche da attivare proprio con delle combinazioni di tasti. Per esempio, premendo questo, mentre esegui quest'altro, parte un'animazione, il contrattacco si fa premendo il tasto della parata più quadrato, il secondo perry si fa premendo il tasto della parata più il tasto dell'attacco pesante. Insomma, ci sono varie tecniche da poter attivare e l'abilità col pad risulta essere più importante se lo si vuole. Poi vi spiego meglio quando andremo a parlare nello specifico dei pro, dei contro e dei neutri. La progressione è di tipo Souls-like, quindi GDR con elementi action, perché c'è anche uno skill tree. Quindi noi, sostanzialmente, attraverso le anime, o meglio le lacrime, che perdiamo alla morte e tutto il resto, come succede sempre nei Souls, possiamo fare un level up e quindi distribuire i punti nelle nostre statistiche. Le anime, vi dicevo, che si chiamano lacrime, le perdiamo alla morte, possiamo recuperarle tornando dove siamo morti e c'è un hub centrale che si sblocca dopo due ore e mezza di gioco circa che si popolerà di NPC progredendo nell'avventura e nel quale partiamo per fare missioni nelle varie aree di gioco. Abbiamo già visto, per esempio, che c'è la postazione per il fabbro e un'altra che sembra un tavolo alchemico, quindi credo sia relativa al potenziamento delle pozioni, eccetera, eccetera. Ci sono i falò, ovviamente, dai quali possiamo usare il teletrasporto, che si attiva più avanti, livellare e riposando, ovviamente ci rimpinguano le fiaschette, che sono tre all'inizio, e i nemici rinascono, ok? La difficoltà è molto assimilabile a quella di un Souls. C'è anche la barra della postura nei nemici, un po' la Sekiro, e noi abbiamo la stamina, ma questo gioco non si gioca esattamente come Sekiro, ok? Poi vi spiego meglio. È un Souls-like con una componente action e la barra della postura. Abbiamo, oltretutto, vari tipi di armi a disposizione che scalano differentemente su statistiche diverse e una modalità di loot alla Diablo, ok? Quindi per ogni arma abbiamo vari esemplari di quell'arma con varie rarità o livelli. Quindi c'è il grigio, c'è l'azzurro, il blu e il viola. Per ora ho trovato questi tre, ma probabilmente ce ne sono anche altri. Anche il level design è un level design Souls-like, chiamiamolo così. Ora passiamo ai pro, ai contro e ai neutri. Pro, il combat, il feedback del colpo è ottimo. È pesante nel senso che è percepibile, si sente molto e i comandi sono molto responsivi. È molto soddisfacente picchiare i nemici. Combattere è piacevole. Abbiamo, come vi dicevo, attacchi leggeri, pesanti, attacchi caricati, varie tecniche e quindi queste combo action che sono più complesse di quelle di un Souls, se vogliamo. Come vi dicevo prima, mentre fai un attacco leggero, premi un altro tasto, ti parte un altro attacco nel frattempo e puoi continuare la combo con l'attacco leggero e poi ripremere quell'altro tasto. Insomma, ci sono varie cose che possiamo fare. E quindi tante combinazioni di pulsanti da premere per utilizzare varie tecniche, molto più varie rispetto a quelle di un Souls. Ma, ripeto, è una nostra scelta. Perché poi c'è un sistema di progressione di cui vi parlerò che ci consente proprio di scegliere quello che vogliamo fare. Il gioco tecnicamente è fluido. A livello di FPS non ci sono cali particolari nonostante questa sia una beta, cosa fondamentale da in realtà puntualizzare. Infatti tutto quello che dirò poi nella parte di contro e bisogna vedere poi come esce il gioco quando esce, ma anche in quella dei pro effettivamente. La progressione è molto ricca. Abbiamo, come vi dicevo, la modalità di looting alla Diablo. Quindi queste armi con un livello variabile. Dei perk all'interno delle armi variabili a seconda dell'esemplare della stessa arma. Quindi troviamo più esemplari della stessa arma con statistiche differenti e perk differenti a seconda della rarità. E oltretutto possiamo anche potenziarle queste armi. Io non ho ancora sbloccato il fabbro, ma è evidente che c'è una stazione per il fabbro nel nexus centrale, che non si chiama così, non mi ricordo, nel lab centrale. Quindi noi possiamo prendere un'arma di tot rarità, tot livello e potenziarla. Non si sa ancora se potenziarla significa che poi aumenta anche la sua rarità oppure aumentano solo le statistiche legate a quell'esemplare senza aumentare la rarità. Questo è da vedere. Però c'è appunto un sistema di loot alla Diablo. Trovate un sacco di roba. Sia per quanto riguarda le armi che per quanto riguarda invece l'armatura. Abbiamo testa, quindi elmo, armatura per il torso, guanti, pantaloni, stivali. E due slot per gli amuleti. Quindi c'è abbastanza roba per poter personalizzare la propria build a livello di equipaggiamento. Poi le armi hanno uno scaling. Ci sono 7-8 statistiche, una cosa del genere. La solita forza, una roba che è simile a destrezza, un'altra ancora. Insomma, varie statistiche da poter potenziare. E il level up appunto è alla souls. Cioè tu accumuli abbastanza lacrime per poter fare level up, vai al falò, fai level up e decidi tu dove investire i punti che puoi investire a livello di statistiche. Quindi puoi alzare solo vitalità, vitalità e stamina e tutta una serie di altre statistiche. Forza, destrezza, eccetera. In più, oltre a questo sistema di level up delle statistiche che è molto GDR, molto soulsiano, c'è anche un albero delle abilità alla Sekiro. Di più, più specifico ancora. C'è un albero delle abilità che è suddiviso per tipologia di arma. Quindi hai tutte le great sword, quindi tutti gli spadoni, che hanno un albero delle abilità. Tutte le armi dual che hanno un albero delle abilità. Non ogni arma dual, ok? Quindi tu, sbloccando le abilità delle armi dual, diventi più bravo, puoi utilizzare più tecniche con le armi dual, ok? Puoi utilizzare tecniche e passive in realtà. Quindi, dipende da quello che scegli, puoi renderti la vita un po' più difficile con il pad, ma sbloccare tecniche magari un po' più soddisfacenti, oppure rimanere su delle passive o abilità un po' più semplici per giocarlo un po' più alla Souls, ma sempre con questa componente action in più che si sente proprio con il pad. Non si sente mentre si combatte. Mentre si combatte sembra veramente un Souls, ma con il pad le cose che potete fare sono di più. E quindi c'è questa componente action. Quindi, equipaggiamento alla Diablo, scaling delle armi e level up alla Dark Souls, alla Elder Ring, quindi con statistiche e tutto il resto, e albero delle abilità. Quindi abbiamo quelle, vi dicevo, le abilità delle categorie di armi, delle varie categorie di armi, e poi anche un albero delle abilità generico relativo al nostro personaggio. Assomia un po' Wukong in questa cosa. quindi una protezione ricca, che a me piace. Non so quanto sarà facile bilanciarla, io per ora non ho trovato mosse particolarmente rotte, tranne una che è molto forte, però mi sembra che i nemici pure ci tengano testa, quindi va bene così. Abbiamo, come vi dicevo, la possibilità di combattere come vogliamo. Vogliamo usare solo la schivata? Se può fare. Solo la parata? Pure. Solo il Perry? Puoi usare solo il Perry. Solo gli attacchi base? Va bene anche quello, non c'è bisogno di fare 7000 combo. Funziona tutto. E possiamo crearci quindi uno stile di combattimento che rispecchia pienamente i nostri gusti quando giochiamo. Passiamo ai neutri del gioco. Il level design. Il level design è, come dicevo, alla Souls-like, con delle scorciatoie, è gradevole, ma nulla di entusiasmante, sinceramente. Fa il suo senza strafare, però. Il design dei nemici e delle ambientazioni nelle fasi iniziali non è molto ispirato. I nemici base, ma anche quelli elite, sono abbastanza generici. Ci sono questi soliti mezzi zombie o scheletri con spade più piccole o più grandi, con l'arco. Insomma, non c'è una grande varietà da quello che ho visto e nemmeno una grossa identità in questi nemici. Ci sono poi anche delle specie di troll, degli orsi, che sono nemici elite un po' piuttosti da abbattere, ma comunque, ecco, a livello di veramente identità dei nemici non mi sembra che abbiano una forte personalità. diciamo così, un forte carisma. Stessa cosa per le ambientazioni, che sono tutte ambientazioni montuose, per quanto ho visto finora, con la neve. Spero che ci sarà, e io ho giocato ormai cinque ore circa, spero che, progredendo, ci sarà la possibilità di vedere ambientazioni differenti, con palette di colori diverse e proprio, insomma, strutturate diversamente. Contro. Il primo contro è che nelle zone interne, cioè quando siamo, per esempio, dentro una caverna, cioè la neve è pure là dentro, non vi preoccupate, quando siamo dentro una caverna, per esempio, abbiamo una specie di Yu, un alone, al di sopra, subito al di sopra la testa del personaggio, che rende difficile vedere. È un alone un po' verdastrino, sembra, che oscura troppo la visuale. Nemmeno con la lanterna che abbiamo, questo alone va via. La lanterna aumenta la luminosità subito attorno al personaggio, ma non nella distanza, perché c'è quest'alone strano sopra che dà veramente fastidio, non si vede bene. Stiamo parlando di una beta, ve lo ricordo ancora una volta. Il gioco è nel 2025, c'è tempo per aggiustare tutto. La beta viene fatta appositamente per ricevere del feedback e poi magari cambiare. Questa cosa immagino che verrà cambiata, perché è abbastanza palese che non vada troppo bene. Poi, il perry. Il perry, quello normale, non quello potenziato che si fa con L1 più R2, poi parliamo anche di quello, il perry normale è strano. C'è un'animazione tra l'abbassamento della guardia, quando tu rilasci il pulsante per abbassare la guardia, e il momento in cui la rialziamo, che sembra troppo lenta per certi attacchi nemici. Per fare il perry voi non potete tenere premuto il tasto della parata, ma dovete rilasciarlo dopo ogni colpo e poi ripremerlo, perché dovete premerlo al momento giusto per fare il perry. Ecco, questo movimento ha un'animazione che forse è leggermente troppo lunga per certi attacchi che sono molto veloci e quindi tu non fai, cioè l'animazione non fa in tempo a concretizzarsi, a realizzarsi che ti arriva la botta. Ho notato questa cosa in alcune situazioni, ma il perry in realtà sembra anche abbastanza, sembra avere una finestra appunto di perry, di validità buona. Quindi forse è solo questa questione un'animazione che va un attimo aggiustata, bilanciata con il nemicio, con i nemici, scusate, che ci troviamo davanti. E quell'altro perry invece, no, ho capito proprio come si fa, bisogna tenere premuto L1 e poi premere R2. La questione è che parte un'animazione di una lunghezza incredibile, cioè lui con la spada fa praticamente un uppercut, un montante, un colpo verso l'alto che ha un'animazione lunghissima e non si capisce quando devi farlo sostanzialmente. Questo secondo perry secondo me è al momento proprio sbagliato e va rimodulato in qualche modo. Ricordo, è una beta, quindi probabile che lo faranno. Il danno dell'arma sullo scaling moltiplicato per lo scaling non è chiarissimo, cioè tu vedi quanto danno fai in toto, in totale, ma non capisci esattamente a livello numerico da dove viene quel danno, ok? Poi certo, se tu compari il danno che fai con un'arma con il danno che fai con un'altra arma che magari è uno scaling diverso, che tu non supporti perché le tue statistiche sono per quell'altra arma, per la prima arma, vedi che quella fa più danno di quell'altra in totale, cioè l'attacco del tuo personaggio è che ne so 168 con l'arma per il quale è un buon, delle buone statistiche. Se la paragoni a quell'altra vedi che l'attacco è non 168 ma 150 magari, 152. quindi vedi la differenza ma non vedi quanto danno fa quell'arma specifica, non si capisce bene, cioè ha un valore di attacco che però è tipo 30, 34 eccetera eccetera e da quel 34 come si arriva a quel 168 non si capisce bene, ok? si sa qual è lo scaling ma non si capisce di quanto scala effettivamente non puoi fare i conti per capire quanto danno fa quella singola arma spero di essermi spiegato abbastanza bene poi ci sono degli elementi interagibili che sono tipo delle scale o altre cose nell'ambiente che sono luminosi luccicano cioè proprio un po' tipo un insegna è brutto da vedere semplicemente tutto qua tutto qua a me non piace e spero che lo tolgano perché è chiaro che in una scala c'è poi salì non c'è bisogno di me la fai luminosa dai mi accorgerò speriamo poi altro contro la stamina forse è troppo difficile da gestire perché? perché quando la stamina si depleta completamente rimaniamo storditi per un lungo periodo di tempo e alcuni nemici anche nemici elite non boss con due attacchi oltretutto parati ti stordiscono sembra un po' troppo sembra un po' troppo quindi diventa veramente difficile certe volte non rimanere senza stamina magari è una scelta di game design vogliono darti una sensazione un po' alla Sekiro però facendo così limiti un po' tutta quella libertà che invece dai quando ti permettono di scegliere tutte le abilità e tutto il resto quindi secondo me ecco sarebbe meglio che la stamina fosse un po' meno punitiva nella sua gestione ok questo è un po' il quadro generale del gioco in generale mi sembra un gioco valido divertente gustoso da giocare con delle cosette da limare come avete visto ma è un souls like che io sinceramente voglio voglio giocare e aspetto con insomma una discreta una discreta un discreto hype vi ricordo che questa è una beta quindi tutto quello che ho detto è soggetto a cambiamento il gioco va a essere nel 2025 nei primi 2-3 mesi del 2025 dovrebbe uscire quindi c'è tempo per metterlo a posto o per peggiorarlo chi lo sa speriamo di no io vi ringrazio per aver visto il video noi ci vediamo come al solito al prossimo video oppure se volete in live su twitch grazie a tutti e alla prossima